Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi è allenamento upper body and core Iniziamo subito perché è freddo quindi ho bisogno di riscaldarmi Allora, inizio con un riscaldamento A corpo libero metto i miei guantini, faccio un mini circuito Non a tempo ma a numero di ripetizioni Senza pausa fra un esercizio e l'altro riposo soltanto alla fine Quindi gli esercizi sono lateral push up Parto da una posizione di plank centrale Apro a destra, piegamento Chiudo, apro a sinistra, piegamento Ne faccio sei Cinque Sei Ok, poi bear crawl Lo sappiamo benissimo, lo odiamo tutti Ci si mette in quadrupedia, ginocchia alzate e ci si sposta Ok, ne faccio dodici Il che significa Che parto da qua Uno Due Tre Quattro Tre енно Nove Dieci Undici Totici Poi Alligator push up Parto da una posizione Parto da una posizione di plank, vado avanti con un braccio e avvicino il ginocchio al gomito. Uno, due. Questo braccio si piega a 90 gradi. Tre, quattro, cinque, sei. E l'ultimo esercizio del riscaldamento, cinque comandos. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque. Mini circuito di riscaldamento, lo ripeto tre volte. Adesso faccio un minuto di pausa. Sono consapevole che sia stato un riscaldamento assassino. Ma adesso passiamo al focus di questo allenamento. Upper. Allora facciamo super serie perché per me le super serie vanno veramente a stressare in profondità il muscolo e creare quello stress, ciò che io cerco, per le spalle. Ad esempio, non faccio allenamenti così per le gambe perché quel tipo di stimolo alle mie gambe me le gonfia e basta. Insomma, i miei allenamenti upper e lower sono completamente diversi. Infatti sembra che stia allenando due persone diverse. Invece sono sempre io. Così ha. Comunque, due esercizi in super serie. Il pike push up che l'abbiamo visto l'altra volta e le spinte che le abbiamo viste anche l'altra volta. Allora, pike push up. Mi metto a piramide. Spingo indietro e giù. Ne faccio 10 e poi faccio subito dopo le spinte. Che faccio da seduta perché voglio maggiormente isolare le spalle evitando di darmi la spinta con le gambe. Che dietro. Sì. Raga lo ammetto, questo allenamento sarà devastante Quindi faccio 10 e 10 Riposo un minuto, due minuti E ripeto altre due volte Quindi tre giri per ogni super serie Secondo esercizio non è in super serie Ma è un semplicissimo rematore A 90 gradi o 45 Con un peso, io userò il manubrio Visto che mi è ben comodo Porto in una posizione retta Mi piego, piego leggermente le gambe Posso farla a 90 gradi Quindi da così Tiro indietro, comiti indietro Non a lato, ben stretti Oppure a 45 gradi Però questo secondo me Impatta molto di più sulla schiena Molto meglio a 90 gradi Così Ne faccio 10-12 Così Questo esercizio serve per riprendere un pochino il fiato perché almeno per me finora è stato devastante questo allenamento. Mi raccomando quando tirate indietro e siete in punta tenete 2-3 secondi la posizione, stringete forte e poi lasciate controllando il movimento di ritorno. Tre serie, ok ora, se non mi amare oggi non mi amare mai, alzate frontali con la kettlebell e le tirate al mento con il manubrio. Quindi alzate frontali, posso farlo da in piedi o da seduta, quindi braccia tese davanti a me, questa è la posizione di partenza e rispetto a quest'asse 90 gradi scendo leggermente e salgo leggermente oltre il parallelo. E queste sono 10 ripetizioni. Ok. Le tirate al mento si fanno da in piedi, quindi ho il mio manubrio in mano, da qui tiro su. Ecco… quest'ultimo è uno dei miei esercizi preferiti anche questo in super serie 10 e 10 primo giro fatto anche perché io sto veramente limitando i tempi di recupero in quanto è la mia pausa pranzo e devo anche mangiare insieme ad allenarmi quindi sto facendo praticamente tutto tutto senza pausa mi sto uccidendo comunque andiamo avanti con le super serie do un pochino di riposo alle spalle perché se no non riesco a fare l'esercizio che voglio fare dopo quindi diamond push up per i tricipiti e curl con il bilanciere per i bicipiti il diamond push up io vi consiglio di farlo sulle ginocchia penso che lo faccio anche sulle ginocchia perché essenzialmente allora si mettono le mani una accanto all'altro formando un diamante quindi così una accanto all'altro ben stretti praticamente è un push up stretto questo quindi si scende le braccia sono ben strette perché si lavorano i tricipiti e si sale spingendo i tricipiti ok qui come dicevo tutto chiuso quindi ben stretto a formare un diamante ne faccio cinque e curl con il bilanciere a volte mi odio quindi sto facendo 5 più 8 sono morta e faccio altri due giri allora la parte delle super serie anche con pesi e carichi finisce qui adesso voglio fare un circuito finisher proprio assassino finale a corpo libero upper body e addome ma andiamo a farlo dentro perché qui c'è la bufera che ho freddo ok come dicevo mi sono spostata dentro ecco adesso c'ho la luce divina addosso dicevo mi sono spostata dentro perché fuori c'era il diluvio la tempesta e basta c'è un ferido non ne potevo più per questo mini circuito finale colpo di grazia a corpo libero composto da tre esercizi che sono i dorsali da stesa questo è un esercizi molto interessante che va a lavorare i dorsali quindi ci si stende per terra si alza il petto braccia sopra e tiro dietro ho il petto alzato tutto il resto del corpo per terra non lo vedete ma ve lo assicuro quindi da così braccia dritte tese e tiro dietro e stringo sembra facile ma credetemi è bello tosto se volete aggiungere resistenza potreste prendere uno di quei elastici lunghi e sottili farlo passare davanti a qualcosa magari avete un palo una pertica e tirare l'elastico io non ho nulla ma credetemi che comunque fatto così a corpo libero concentrandosi bene sul sentir lavorare le schiena vediamo io ho un modo per farvi vedere cosa deve lavorare che è quello di dengarmi quindi vediamo un secondo vi metto sopra ok top bella sorpresa ok Quindi questi sono i dorsali da stesa, secondo esercizio plank avanti e indietro, quindi mi metto in una posizione di plank avanti e indietro. Oh, dove andate? Oh, fotocamera, sta calma, eh? E terzo esercizio, i shoulder taps, che oggi non ancora li abbiamo fatti e sono uno dei miei esercizi preferiti. Quindi mi metto in una posizione di plank alto e sollevo le taps, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ok? Quindi dieci, dieci e dieci, tre giri, senza pausa fra un esercizio e l'altro, basta. Devastante oggi, raga, devastante. Quindi, dai, quest'ultimo lo faccio insieme a voi, così facciamo un altro giro insieme e poi basta, mi saluto. Allora, ricominciamo. Vedete, pause non esistono. Oggi vi devo far veloce. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Cinque. Uno, due, tre. Dieci. Dieci. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Anche a corpo libero si riescono a mantenere i muscoli. Anzi, è proprio corpo libero. E basta, il mio workout finirà con un altro giro di questo mini circuito finisher finale. spero che vi sia piaciuto, allenamento principalmente upper body, l'addome è stato coinvolto ma non tantissimo perché vengo dall'allenamento che vi ho postato in questi ultimi due giorni che era il circuito cardio più addominali, quindi questa settimana ne avevo già fatti. Ma un pochino di richiamo non farà male, ma non troppo. E basta, il mio workout finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se è così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, che è un vlog di questa giornata che sto filmando, quindi vabbè. Ciao ciao!